L'Ecoambiente ha comunicato la chiusura temporanea dell'ex stir di battipaglia a causa della saturazione dell'impianto e della temporanea sospensione delle attività di conferimento degli automezzi. Nei prossimi giorni dunque non sarà possibile rispettare il consueto piano dei conferimenti. Fino alla normalizzazione della situazione sarà stilato un elenco giornaliero che, fanno sapere da Ecoambiente, non terrà conto dell'ordine di arrivo ma dei quantitativi prodotti da ciascun comune, al fine di dare proporzionalmente possibilità di scarico ad ogni ente. Contestualmente è stato chiesto ai comuni di non inviare ulteriori mezzi presso l'impianto, ma di attendere che gli uffici di Ecoambiente comunichino le modalità e i tempi di scarico.